Enz, sede centrale circolari oggetto, organizzazione e seminario, la scuola è uguale per tutti. Nessuno deve rimanere indietro. Ripartiamo dal nuovo PEI, alla luce del Decreto Legislativo 66 del 2011. Carissimi dirigenti, invitandovi a darne la massima diffusione, la sede centrale Enz, particolarmente attenta alle tematiche relativi alla scuola, vi segnala questa importante iniziativa che si propone di organizzare un ciclo di seminari dedicati al tema dell'inclusione scolastica. Il primo degli incontri ci sarà in data 13 dicembre 2022, alle ore 16.30 di pomeriggio. Dal titolo, la scuola è uguale per tutti. Nessuno deve rimanere indietro. Ripartiamo dal nuovo PEI, alla luce del Decreto Legislativo 66 del 2011. Lo scopo del webinar, tenuto dall'avvocato Maurizio Benincasa, è quello di fornire una panoramica sugli strumenti atti a garantire il diritto allo studio e all'istruzione, alle alunni e agli alunni sordi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. L'incontro è rivolto in particolare ai genitori di figli sordi, ai dirigenti Enz delle sedi provinciali e regionali, ai collaboratori o consulenti legali che supportano gli uffici territoriali dell'Enz e a quanti sono interessati. La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link. Le iscrizioni si chiuderanno il 7 dicembre 2022. Il calendario degli altri appuntamenti sarà fornito in seguito. Ringraziandovi per la consueta, fattiva collaborazione, l'occasione gradita per porgere cordiali e fraterni saluti. Grazie. Ringraziandovi per la consueta. Grazie a tutti